Musica Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV Serie di furti in città in concomitanza della chiusura di Oro Arezzo Le vittime sono tre buyers ospitati in città proprio in occasione della fiera Orafa Aretina Chiara Sadotti Tre furti nel giorno di chiusura di Oro Arezzo Altrettanti i buyers derubati che erano arrivati in città proprio per la manifestazione I primi due episodi in un hotel che si trova a pochi passi dell'Arezzo Fiera e Congressi Dove sono state assaltate le cassaforti in due camere distinte In entrambi i casi il ladro, un vero e proprio professionista Una volta dentro ha portato via direttamente le casseforti Una conteneva 3.200 euro di preziosi denaro oltre che documenti Nell'altra un bottino più consistente, circa 16.000 euro Derubati una coppia di sudafricani per la prima volta ad Arezzo ed un cliente storico della fiera Sul caso stanno indagando i carabinieri Un secondo episodio invece si è verificato in via Guido Monaco Dove è stato derubato un buyers tunisino Al quale una giovane ha sottratto una busta contenente circa un chilo d'argento Dal valore di 1.000 euro Providenziale l'intervento di alcuni turisti Che hanno rincorso l'autore del colpo sino all'arrivo delle forze dell'ordine Delunciato un ventenne con precedenti per furto I preziosi invece sono stati restituiti al proprietario Sul posto polizia municipale, carabinieri e sanitari dell'emergenza urgenza Purtroppo è un tema ricorrente durante le fiere Non solo a Arezzo La cosa peggiore poi è che vengono rubati anche documenti Quindi passaporti Inizia un iter un po' diciamo noioso Ci vuole un'attenzione particolare Che però ecco mi sembrava di aver visto Soprattutto intorno al padiglione fieristico di Oro Arezzo Probabilmente bisognerà poi prossimamente Diciamo dotarsi di maggiori anche sistemi di sicurezza Negli hotel che ospitano i buyer Rimaniamo nell'ambito dei furti Perché ne sono stati effettuati altri due in Valdarno In altri tanti negozi Il primo è nel punto vendita Sforazzini Buffetti di Via Pasteur a Montevarchi Il secondo in un punto vendita Canu In una frazione di San Giovanni Valdarno Già colpito di recente I carabinieri stanno indagando Ed hanno recuperato i filmati Delle telecamere di video sorveglianza della zona Sentiamo Ancora un colpo messo a segno nel Valdarno a Retino Un furto nella notte al punto vendita Sforazzini Buffetti I ladri sarebbero entrati forzando la porta d'ingresso Una volta dentro hanno fatto razzia di materiale elettronico, pc e tablet Per un valore stimato di circa 11.000 euro Poi si sono dati alla fuga Alle spalle si sono lasciati ingenti danni Alla porta manca gli arredi e il registratore di cassa Il furto è stato denunciato ai carabinieri Che stanno portando avanti le indagini Sempre nella notte in Valdarno I ladri hanno preso di mira anche per l'ennesima volta Un punto vendita Canu Questa volta in zona Sant'Andrea San Giovanni Lo stesso colpito solamente qualche settimana fa I banditi avrebbero forzato la porta Anche ferendosi e arraffato poi 160 euro dal registratore di cassa Solamente qualche giorno fa Un altro colpo nel territorio valdarnese A Terra Nuova Bracciolini in via Poggilupi In questo caso i gnoti si erano introdotti all'interno di una sala scommessa Scassinando la porta Per poi portare via la cassaforte Contenente circa 10.000 euro Almeno 4 le persone Immortalate dalle telecamere di videosorveglianza della zona Incidente nella tarda mattinata di oggi Sul raccordo a 1 Arezzo battifolle Coinvolte due vetture e tre persone Nello scontro sul posto Sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza della centrale 118 di Arezzo Presenti anche ambulanze di Croce Bianca e misericordia del capoluogo Una persona è stata trasferita al pronto soccorso di Arezzo Ma le sue condizioni non sono gravi È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco Del comando Arezzo Inoltre è quello dei carabinieri della compagnia di Arezzo Che hanno effettuato i rilievi di legge E adesso parliamo degli scontri lungo il tratto toscano dell'A1 Dei tifosi di Juve Atalanta Che stavano raggiungendo la capitale dove alle 21 allo stadio olimpico È previsto il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Sarebbero circa un centinaio gli ultras di Juventus e Atalanta Coinvolti negli scontri che si sono verificati nel pomeriggio nel tratto toscano Della A1 in provincia di Arezzo I problemi maggiori secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine Si sono registrati nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno Le auto e i minivan dei tifosi dell'Atalanta Si sono incrociati in un'area di parcheggio Con i tifosi bianconeri provenienti da Milano Ne sarebbe nata una scazzottata Con lancio anche di oggetti terminata all'arrivo della polizia Alla vista della pattuglia I sostenitori delle due squadre sono scappati Lasciando per terra i segni degli scontri Sono in corso le indagini Per ricostruire con esattezza l'accaduto Nell'area di servizio Arno Invece in provincia di Firenze La presenza delle forze dell'ordine Ha impedito il contatto tra le due tifoserie Torniamo in Valdarno parlando della vetreria IWV di San Giovanni Valdarno Che riparte grazie all'acquisizione della nuova proprietà Tradizioni associate L'impegno è quello di riattivare gradualmente i forni E di conseguenza anche la forza lavorativa Attualmente in cassa integrazione Chiara Sadotti Siamo divenuti a tutti gli effetti proprietari del marchio IWV E di parte degli immobili A seguito di una gara per l'assegnazione di questa prima parte Della struttura aziendale E quindi possiamo dire che a breve Appena saranno conclusi i litri burocratici Potremo iniziare anche gli investimenti sugli immobili Manca solo la formalizzazione Ma ormai il marchio IWV è stato acquisito dalla holding Tradizioni associate I forni dell'azienda furono spenti per la prima volta nel febbraio 2022 A causa dell'aumento esponenziale ed insostenibile del costo delle materie prime Quattro mesi più tardi vennero riecesi Ma in maniera temporanea Fino al definitivo stop del novembre successivo Lo scorso dicembre infine la svolta L'affitto del ramo d'azienda E adesso ancora un passo in avanti verso il rilancio Innanzitutto la cospicua dose di investimenti Che abbiamo sostenuto Per lavorare sulla sistemazione del magazzino Che è stato riportato all'interno dell'azienda E per il suo ripristino in termini di prodotto e di quantità Stiamo facendo lavorare aziende del territorio Stiamo facendo lavorare aziende italiane Abbiamo aggiunto alcune referenze di importazione Per completare rapidamente il catalogo E in questo mese di maggio Ricominceremo a fatturare come azienda finalmente i prodotti Attualmente i dipendenti sono in cassa integrazione a rotazione L'ammortizzatore sociale avrà una durata di 18 mesi Interessando un massimo di 10 persone Sulla trentina occupate attualmente nello storico stabilimento Quindi riusciamo a farli lavorare secondo necessità Il personale impiegatizio lavora molto di più Riusciamo a coprire le molte richieste Che abbiamo avuto in questi mesi di prodotto Slita invece alla primavera 2025 La riaccensione dei forni Il problema grosso è che dobbiamo Prima di investire sulle attrezzature Mettere in sicurezza l'immobile Perché purtroppo tutta l'attrezzatura Che era presente all'interno dello stabile È in stato di fattiscente Quindi dovrà essere dismessa Ma anche l'immobile stesso Prima di poter essere occupato Deve essere messo in sicurezza Quindi ci vorrà qualche mese per questi lavori E quindi da quelli che erano i nostri tempi Che prevedevamo Cioè entro il fine anno Di partire col soffiato Dovremo slittare alla primavera del prossimo anno La deputata Simona Bonafè Al castello dei contiguidi di Poppi Prosegue il ciclo di lezioni Di educazione civica Promossa dall'associazione Fratevere e Arno Al tema Trattato è quello dell'istituzione Dell'Unione Europea Proprio in prossimità delle elezioni Che rinnoveranno Le cariche del Parlamento Del vecchio continente Chiara Sadotti È salita in cattedra Anche la parlamentare Simona Bonafè Nel corso degli appuntamenti Con l'educazione civica Organizzati dall'associazione Tratevere e Arno Un appuntamento con gli studenti Nella cornice del castello Contiguidi di Poppi Per parlare di Europa È importante fare educazione civica In mezzo ai ragazzi Sensibilizzare i ragazzi Al rispetto delle istituzioni Oggi parliamo di Europa Un'istituzione che si sente spesso Molto lontana E che invece riguarda molto da vicino La vita dei cittadini Le istituzioni europee Sembrano complesse In parte anche lo sono Però c'è un motto Molto bello dell'Europa Che è uniti nella diversità E insomma Io parto sempre Da questa bellissima cosa Che ci tiene insieme Cioè siamo insieme In questo bellissimo progetto Ancora incompiuto Anche se siamo diversi Diversi fra nazioni E diversi Diversi fra di noi E quindi insomma È bello poter Raccontare la complessità Dell'Europa A un pubblico di ragazzi Parlando il loro linguaggio È quasi al termine Il terzo anno di lezioni Di educazione civica Negli istituti superiori Dell'Aretino In collaborazione Con il provveditorato Agli studi di Arezzo E già si può tracciare Un bilancio Più che positivo Un bilancio positivo Non distribuiremo gli utili Come si fa normalmente Con i bilanci delle aziende Perché saranno tutti reinvestiti È una scherza Però in realtà Il principio è proprio questo Cioè utilizzare Le esperienze di questi anni Degli incontri Oramai più di cento Non ricordo Ma sicuramente più di cento Con i ragazzi Delle scuole medie superiori Della nostra provincia E soprattutto fare tesoro Di tutto quello Che ci hanno raccontato Che ci hanno spiegato Relatori, insegnanti Illustri Però ho utilizzato La parola amici Ecco Nel caso di Simona Già parlamentare europea Attualmente Deputato Al nostro Parlamento Ma la cosa più bella Che è stata La parola più bella Che è stata utilizzata È amica Fare tesoro Di quello che gli amici Ci hanno raccontato Salviamo i bambini Per salvare le donne Dalla violenza virtuale Alla violenza reale Questo è il titolo Di una conferenza Che si è svolta Questo pomeriggio Promossa dall'ordine Provinciale Dei medici chirurghi E odontoriatri Dei Arezzo Curata dalla commissione Di genere Dell'ordine di Arezzo Con l'obiettivo Di fotografare La società Attraverso Dinamiche familiari I comportamenti violenti E la correlazione Tra violenza Di genere E consumo Di alcol Grazie a sentimenti Perché sui bambini Per salvare le donne Perché se non insegniamo Ai bambini E quindi Nell'adolescenza Nella infanzia Nell'adolescenza Ad avere rispetto Per gli altri Ad avere Un colloquio Adeguato Con altre persone Non riusciremo mai A evitare La violenza Non solo Ripeto Di genere Ma la violenza In generale Salvare i bambini Per salvare le donne Questo è il titolo Dell'incontro formativo Organizzato Dall'ordine dei medici Di Arezzo Sul tema Della violenza Di genere Gli esperti Nei loro interventi Hanno sottolineato Come sia necessario Partire proprio Dai ragazzi Per prevenire La violenza Contro le donne Anche Arezzo Sta Patendo La Drammatizzazione Delle relazioni C'è una spietatezza C'è quasi Una paura Di ammettere Il dolore La commozione La fragilità Spesso I primi segnali Di una violenza Perpetrata In ambito familiare Sono proprio Sul corpo Dei bambini Le donne Le signore Si rivolgano O al pronto soccorso O ai medici Di base Dipende Dai contesti In cui chiedono aiuto Sicuramente I segnali fisici Sono i primi Che possono essere Identificati Quindi Ricorso Al pronto soccorso Per Contrusioni Lividi Segni Fisici Questo Non esclude Anche però Segni Per esempio Sul corpo Dei bambini Io lavoro Con l'infanzia Ci sono Comunque Anche segnali Evidenti Nei bambini Che le insegnanti Stessi Possono Possono Cogliere Non devono Essere sottovalutati E coraggiosamente Va chiesto Al bambino Spesso Cosa è successo Altri segnali Sono psicologici E il più comune È il senso di colpa Quindi incredibilmente La donna Comunque maltrattata Tende a discolpare Chi ha commesso Questo reato Io mi occupo Di sostanze correlate All'alcol Le donne arrivano Al pronto soccorso Dicendo È successo Mi ha picchiata Ma perché Aveva bevuto Quindi c'è una sorta Di giustificazione Si assiste a una serie Di episodi Di violenza Sulle donne Che definire episodi L'episodio è unico In realtà Non è un episodio unico Ma è una serie di episodi Che non finiscono più Bisogna intervenire In qualche maniera E credo che la questione Sia essenzialmente E oggi è stato Il giorno Dell'ultimo saluto Nella chiesa del Sacro Cuore Di Piazza Giotto A Silvano Flaborea Uno dei giocatori Che ha fatto La storia Della squadra Di calcio Amaranto Attaccante esterno Da 142 Presenze totali 47 gol Quinto cannoniere Di sempre Nell'Arezzo Fu uno dei protagonisti Della prima Memorabile promozione In serie B Del 1966 Appesi Scarpini Al chiodo Ha iniziato la carriera D'allenatore Osservatore Scoprì Il talento Colombiano Tino Aspeglia Originario Di San Vito Al tagliamento In provincia Di Venezia Da decenni Ormai Era diventato Aretino D'adozione Abitante In una frazione Di Palazzo Del Pero Ed entriamo Proprio Nell'argomento Arezzo Calcio Perché sono giorni Caldi Sia per quello Che riguarda Il mercato Sia per le sorti Anche Dell'allenatore Della squadra Amaranto A Livorno Già Si festeggia A Livorno C'è il primo Clamoroso Colpo Del gruppo Locatelli Così titola Il Tirreno Nel dare Per certo L'arrivo Del nuovo Direttore Generale Ex Arezzo Paolo Giovannini Si legge infatti La fumata bianca Nella tarda serata Di lunedì L'intenzione Aspettando Escio È quello Di Non perdere Tempo Per la squadra La notizia è clamorosa Per tanti motivi Dalla sostanza Alla forma Ieri sera Riferendosi Al lunedì Ci sarebbe Stato un incontro E forse anche Una stretta di mano Da parte Di Paolo Giovannini Con il gruppo Locatelli Un gentleman Agreement Per la prossima Stagione Il gruppo Non è ancora Proprietario Del club Labronico Ma la trattativa Sarebbe A buon punto Ci si porta Comunque Avanti Con il lavoro Per la prossima Stagione Infatti L'ex DG Del Rezzo In una Intervista Sempre Concessa Allo stesso Giornale Non smentisce Anzi Conferma Se ci sarà Un cambio Societario E va in porto Sarò Io Il DG Indiani Il tecnico Ha in mano Un curriculum Amaranto Di tutto rispetto Insieme All'ex Direttore generale Che ormai Alla vadige Pronte per Livorno A quanto pare La promozione Dalla serie D Contruttori D'anticipo Tau Posto In serie C Con la conquista Dei Playoff La valorizzazione Dei giovani E soprattutto Per quello che riguarda Il tecnico Amaranto Un contratto Fino al 2025 Paolo Indiani Però Vuole anche Delle garanzie Specie Dopo L'addio Proprio Di Giovannini La certezza Di una fiducia A 360 Gradi Per il Direttore sportivo Cutolo Una scelta Importante Quella A suo Carico Altrimenti La società Dovrebbe valutare Un cambio Anche Di panchina Si ventilano Già Alcuni nomi Quelli Di Braglia Dalcanto E Barillari In settimana La decisione Rimaniamo Sempre In ambito Amaranto Perché È stato Assegnato Il Cavallino D'oro Il premio Messo in palio Dal quartiere Di Porta Santo Spirito Al giocatore Dell'Arezzo Che si è distinto Maggiormente Durante La stagione Agonistica Ad aggiudicarselo Il portiere Luca Trombini Presenti Alla serata Anche i compagni Di squadra Settembrini Gucci e Foglia Omaggiati Rispettivamente Per la fascia Di capitano I 12 gol Messi a segno In campionato E le 200 Presenze Raggiunte Con la maglia Amaranto Targhe In ricordo Anche per orgoglio Amaranto E Museo Amaranto A fare gli onori Di casa Anche il rettore Del quartiere Giacomo Maggi Con la presenza Dell'assessore Allo sport Federico Scapecchi Trombini Succede Nell'Albo d'Oro A Tremolada Nel 2016 Moscardelli 2017 E 2018 Brumori 2019 Calderini 2022 Castiglia Castiglia Nel 2023 L'ultimo portiere Prima di Trombini Ad avere Giudicato Il premio Fu Nel 2015 Benassi Altri portieri In passato In passato Sono finiti Nell'Albo d'Oro Li ricordiamo Vissoli Nel 64 Pellicano Nel 83 Orsi Nel 86 Nel 87 Fabri Nel 91 Nel 92 Tardioli Nel 1998 Bucchi Nel 2011 E Scarpelli Nel 2014 Rimaniamo in ambito dello sport Perché Parliamo di una Partita Importante Dal punto di vista Sicuramente Del sociale Tornano le imprese Della neonata Clericus Arezium La squadra di calcio Formata interamente Da sacerdoti Religiosi Della nostra Diocesi La squadra allenata Dal Noto Allenatore Mario Palazzi Iscritta Al CSI Centro Sportivo Italiano Affronterà In amichevole Lunedì sera Alle ore 20 Sui campi Dell'oratorio Di San Leo Il Pionta Arezzo Squadra formata Da pazienti Volontari E sanitari Afferenti Al Dipartimento Di Salute Mentale Dell'Asle Toscana Sud-est Di Arezzo Convocati Nella squadra Clericus Arezium Accompagnati Dal team manager Alberto Bernardini Saranno Don Adalberto Di Poppi Don Andrei Zalewski Rettore Del seminario Don Chinoso Madu Di Tegoleto Don Leslie Lubassu Mazamba Di Badiannano Lorenzo Bernardini Del CSI Di Arezzo Don Salvatore Scardicchio Di Ponticino Don Slanislas Emeikoku Alminagopo Spero di aver letto Bene Di Castiglione Fiorentino Fra Marco Cherubini Del Santuario Delle Vertighe Don Michal Goschi Di San Leo Don Isaac Chiemerem Chima Di Pratantico Michele Fran Calanci Di TSDTV E due Seminaristi Reginald Madeus E Francesco Cioni Per la squadra Invece Della salute mentale Del Piontarezzo Scenderanno in campo Tra operatori Ed utenti Daniele Biagi Fabio Galbiati Tiziano Cartocci Giacomo Sciarma Ivar Romanelli Giorgia Mirel Tanase Andrea Bindi Maurizio Roveri Mirko Sbragi Paolo Rondinini Giuseppe Ferretta Artion Aliai E Michele Moretti Questa era l'ultima notizia Per questa sera Grazie per averci seguito A voi tutti Buona serata Con i programmi di Arezzo TV Grazie per aver guardato il video 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 Grazie per aver guardato il video